Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa. Ieri sono stato a Torino tutto il giorno a intervistare l'amministratore delegato di Intesa, è stato molto interessante, più tardi metterò sul mio sito alcune estratte di quell'intervista e quindi mi scuso, ieri senza zuppa. Oggi da zuppa c'è e si concentra ovviamente su notizie dei nostri quotidiani che sono monotematici, tutti quanti sul vertice West, l'ordinario che verrà fatto domenica e sul quale Conte e Salvini soprattutto si dicono indignati. Dicono indignati per una cosa che avviene a tutti i vertici europei e cioè che alla fine l'accordo si scrive prima che si vedano i capi di Stato o di Governo e questi accordi vengono fatti dalle burocrazie, vengono fatti in maniera precotta, si arriva là e si ha una grande foto opportunity e secondo me l'idea che l'Italia dica ma ragazzi ma che cacchio veniamo a fare su questo accordo precostituito che non serve assolutamente a nulla, stringere la mano alle diverse persone e Salvini dice non ci andare, secondo me sarebbe una minchiata, non andare da parte di un premier italiano a un vertice europeo straordinario per di più su un tema come quello dell'emigrazione posto così in evidenza proprio dallo scatto d'orgoglio italiano e quindi ci deve andare. Ma resta il concetto molto sano e molto giusto di dire che noi a Hug, Giorgio, e cioè che noi non si vede per quale motivo al mondo si debba dare a un vertice in cui si è stato tutto deciso dai francesi e dai tedeschi e per di più contro il nostro parere e soprattutto senza nessun interesse per l'Italia, su un tema che invece è tipicamente greco-italiano e cioè quello delle frontiere nei confronti del nord dell'Africa. Bene, questo è quello che è successo, vi stupite che l'accordo franco-tedesco sia stato già scritto? Avviene sempre così. Vi stupite quello che avete letto nei giornali nelle settimane e nei mesi scorsi e cioè che si stava rompendo l'asse franco-tedesco? Tutte minchiate, l'asse franco-tedesco è quello che governa l'Europa, ha sempre governato l'Europa e che senza l'Inghilterra all'interno dell'Europa sarà sempre più forte. Chiaro? Evidente? Il vero problema della Brexit non è per gli inglesi ma è per gli italiani che non hanno un grande alleato. Chiusa questa parentesi, la vera notizia interessante di oggi ce l'ha Ferrarella sul Corriere della Sera e che vi dice che il problema purtroppo non è tanto e non è solo l'Europa che è un grande problema, ma siamo noi. Il problema ce lo devo trovare a casa nostra. Cosa è successo? Molti di voi non sanno che l'odiato Minniti, uomo di sinistra che è fatto per l'immigrazione, per il contenimento dell'immigrazione più di quanto hanno fatto tutte le dichiarazioni di Salvini, mi spiace dirlo ma così è, posto che sapete io condivido al 100% le posizioni di Salvini, al 100% sull'immigrazione, cosa ha fatto zitto zitto? Minniti con il Ministro Orlando, ha fatto una norma per la quale non è possibile fare l'appello quando si viene condannati dalla Commissione amministrativa sulle questioni di immigrazione. Quindi un immigrato viene qua, dice che c'è diritto ad esilo politico, nel 93% dei casi le commissioni amministrative tecniche dicono no, l'unica cosa che lui può fare è rivolgersi a un tribunale, il tribunale se gli dice ancora un'altra volta di no, via, può essere espulso. Minniti che cosa ha fatto con questa norma? Ha impedito che si potesse fare l'appello alla decisione del tribunale, sarebbe stato un quarto grado, perché noi abbiamo la Commissione tecnica amministrativa, poi il ricorso al tribunale, poi dopo il ricorso al tribunale non c'è più l'appello, c'è soltanto il ricorso alla Cassazione, quindi questo è il procedimento in Italia. Cosa fa? Ed è successo un nigeriano che veniva, diceva io me ne vado via dal Niger perché sono omosessuale, no? Sono omosessuale e il tribunale aveva detto ma qual è l'omosessuale? Te ne vai via dal Niger non perché sei omosessuale, ma perché sei un migrante economico, non c'è nessuna evidenza che tu sia un omosessuale, perché è tipica la richiesta di asilo per omosessualità e quindi per l'incapacità del paese, di origine, di poterlo trattare con gli standard occidentali. Il nigeriano va al tribunale di Milano e il tribunale di Milano che cosa dice? Dice non può essere cacciato nonostante sia stato riconosciuto non omosessuale da un tribunale senza diritto a rimanere in Italia. Sapete perché? Perché ci sono tutta una serie di norme europee, italiane, di contrasto, ci sono tre motivi che spiega Ferrarella, per cui il tribunale di Milano dice fino alla Cassazione, compreso quindi finché la Cassazione non dà il no totale al suo diritto all'asilo, fino a quando non gli dà la Cassazione, quindi altri anni possono rimanere in Italia. Chiaro? Fino alla Cassazione possono rimanere in Italia, mentre Minniti e cosa permettevano di poterli cacciare? Tanto non li cacciavamo dopo il primo grado. Beh, insomma, adesso non si può più, secondo questi giudici. Ma questi giudici, come nota Ferrarella, che cosa fanno? Vanno e si assurano la loro responsabilità? No, fanno un ricorso alla Corte di Giustizia europea per dire se questo era o no, in contrasto con le normative europee. Insomma, sono degli ipocriti, sono degli ipocriti e soprattutto vi rendete conto, qua non stiamo condannando delle persone, stiamo nel nostro diritto, e lo dico da garantista, dicendo prima c'è una commissione amministrativa che ti giudica se è legittimo che tu sia qua, dopo la commissione amministrativa c'è un tribunale che decide se puoi rimanere qua, dopo il tribunale, amico mio, te ne ritorni a casa tua, fai pure un ricorso alla Cassazione, stai a casa tua, se il ricorso alla Cassazione dovesse passare puoi ritornare in Italia. È chiaro che è una procedura incredibile, ma il punto fondamentale qua bisogna contemperare l'idea della sicurezza con l'idea della giustizia. Qui mi sembra che tutte e due siano ampiamente soddisfatte, fino a prova contraria. Beh, comunque da domani in poi, vista la giustizia italiana, questo non va. Altre cose, questo è il tema fondamentale, secondo me, e mi è molto piaciuto il pezzo di Ferrarella di oggi che vi consiglio, tracce della maturità, io trovo sempre ridicole le tracce della maturità perché sono quelle che portano i giudici di Milano, prima vengono fatte le maturità, poi vengono fatte le università in cui si schigliono sempre le solite cagate, poi dopo si va nei corsi in cui si dicono sempre le stesse cose, siamo tutti politicamente corretti, tutti fanfavolosi e ovviamente la maturità ogni tanto o sempre le sue tracce ce l'ha, quelle straordinarie, da perfetti, da buoni, da carini, l'articolo 3 della Costituzione è quella sull'uguaglianza. Ecco, io se fossi stata la maturità oggi avrei scritto l'uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione è una stronzata come è stata applicata, chiaro? Perché non basta dire che l'Italia, ad esempio, è una Repubblica fondata sul lavoro per trovare lavoro, non basta dire che non ci devono essere discriminazioni di razza, quando ovviamente queste ci sono, viste le condizioni, che secondo voi è uguale un immigrato che viene in Italia del Niger e un figlio di un commerciante, di un borghese o di un operario italiano, non sono uguali, si devono rendere le condizioni simili perché persone che meritano cose simili abbiano gli stessi risultati, ma questa specie di impalcatura equalitaria costruita dall'articolo 3 della Costituzione avrei scritto è una minchiata. Secondo voi uno studente può scrivere una cosa di questo tipo in Italia? Lo può scrivere? O l'altro tema in cui parlava dei finzi contini e del razzismo anti-ebraico, che è una cosa disgustosa, orrenda, ci siamo macchiati di vergognose leggi razziali, e se qualcuno oggi scrivesse, ma ragazzi, ma di che state parlando? Qua non c'è nei confronti degli immigrati alcun razzismo, non fate i fenomeni, non è quella roba lì, secondo voi oggi qualcuno la poteva scrivere? Qualcuno avrebbe potuto scrivere in una maturità a uno studente la seguente cosa? Il razzismo viene alimentato da 500.000 persone in Italia, senza arte né parte, purtroppo tutte di colore, per le quali noi associamo l'illegalità alle persone di colore? Avrebbe potuto scrivere una cosa di questo tipo? Io ve lo chiedo, e soprattutto queste persone di colore sono a contatto con le persone, le periferie più povere delle nostre città, è evidente con i maggiori disagi e forse in alcuni casi con sottoculture. Bene, in quel caso si alimenta il razzismo, non con le leggi razziali che c'entra Bassani, che c'entrano i finzi contini con l'immigrazione di oggi. Si poteva scrivere una cosa di questo tipo? Temo di no. Magnaschi fa un pezzo straordinario, il direttore d'Italia oggi, su una delle cose altrettanto ridicole, io non la conoscevo perché i miei figli studiano inglese, pare che sia obbligatorio nelle medie inferiori, come seconda lingua in molte scuole italiane, il francese. Ma vi rendete conto? Il francese. Cioè una lingua morta dal punto di vista internazionale, favolosa, straordinaria, ti puoi leggere la ricerca in lingua originale, puoi parlare con François da Cagliari senza avere traduttori. Ma vi chiedo, ma si può insegnare il francese come lingua obbligatoria nelle scuole italiane? Si chiede Magnaschi e io con lui, stupenda. Altre due cose fondamentali riguardano il governo. Il governo della modernità, quella di Rousseau, dell'uno vale uno, delle piattaforme tecnologiche. Di Maio dice che la domenica non devono essere chiusi i negozi, perfetto. Tanto c'è Amazon. Secondo te tu risolvi il problema chiudendo i negozi da domenica. Deficienti quelli che pensano questa cosa. Non sanno dove sta andando il mondo. Io di domenica vado su Amazon, mi compro addirittura le cose che mi portano a casa, vado nei centri commerciali. Tutte cose che possono piacere o non piacere. Anzi a molti non piacciono. Io sono per i negozi di prossimità. Vorrei un negozio sotto casa mia, ma vorrei anche che avessero la libertà di aprire e chiudere quando voglio o no. Va bene? Non quando decide Di Maio. Che comunque, come dicono, vabbè, non lo diciamo, la volgarità di quello che penso. Altrettanto incredibile la posizione di Doninelli. Ieri la Camera ne parlano tutti i giornali. Viene interrogato. Poco ne parlano quanto dovrebbero. Solo le 24 ore addirittura ne lo mette all'interno di un pezzo. Dice sul Torino, Lione e sul terzo valico, cioè quello genovese, vi rendete conto una cosa che mi fa venire il sangue e il cervello, si deve ridiscutere della Tav. Cioè riportare ancora più dietro l'Italia. Un'Italia in cui non c'è, non ci sono, le domeniche è tutto chiuso. Una bella Italia in cui non ci sono i trasporti veloci. Una bella Italia in cui continuiamo ad avere Genova che è in salata del resto del mondo. Una bella Italia per cui vi farò vedere una foto che mi ha fatto vedere ieri a Torino Chiamparino, per cui la distanza delle uscite di sicurezza nei trafori attuali sono da una parte e dall'altra 6,5 km e 5,5 km. Quindi se succede qualcosa là dentro sei morto. Ma comunque continuiamo così, con questa Italia, diciamo, pauperista. Devo dire che l'idea del condono di Salvini non è così moderna, anche se mi fa godere come un riccio, perché chiede addirittura il condono del 94% delle cartelle esattoriali che sono sotto i 100.000 euro. Non so per quanto, perché mi fa godere come un riccio? Perché i condoni li fanno tutti i governi. Volontari disclosure, scudo fiscale, chiamatele come vi pare. Le hanno fatte tutti i governi. In questo caso c'è, a parte l'ipocrisia di chiamarla pace fiscale, perché questo è un condono, non è un cazzo di pace fiscale, questo governo mette le cose in chiaro e tondo, si chiude qua e si deve però cambiare un'altra cosa. Se fai il condono devi fare pene peggiori e pesanti per chi evade e soprattutto dare una riforma fiscale che mi sembra che questo governo non avrà la forza di fare. Per oggi è tutto, più tardi su nicolaporro.it, sul mio sito tante altre notizie, vi do appuntamento. Che noi ai negozi chiusi da domenica e poi si lamentano che gli indiani e i cinesi lavorano 24 ore, dice Silvia. Sì, già stiamo parlando di fatti dei cingalesi che hanno i negozi aperti quanto gli pare, oltre gli orari, ma sarà una cosa straordinaria, l'idea di un ministro che sembra conoscere veramente soltanto il Antonio Condone di Rizio, vogliamo, arriveremo anche là secondo me. Un caro saluto a tutti quanti vuoi video, appuntamento domani con la zuppa di porro e come sempre condividete questa zuppa se vi è piaciuta. Ciao!